Forte disappunto è quanto esprimono i sindaci del versante riberese per la mancata risposta alla richiesta di incontro immediato al fine di ottenere una seconda irrigazione di soccorso per le pregiatissime colture del comprensorio, richiesta già inoltrata lo scorso 26 luglio e ancora priva di riscontro. La siccità persistente ha brevemente colpito le nostre comunità agricole, dicono i sindaci di Ribera, Bivona, Alessandria della Rocca, Burgio, Calamona, Cicaltabellotta, Lucca Sicula, Montallegro e Villa Franca Sicula, mettendo a rischio non soltanto la produzione ma anche gli impianti e di conseguenza l'intero tessuto economico e sociale del territorio. La prima irrigazione di soccorso dalla quale è trascorso quasi un mese, ottenuta anche grazie all'intervento del prefetto di Agrigento Romano su richiesta dei primi cittadini, ha permesso solo di alleviare temporaneamente la situazione delle aziende agricole del territorio. E' quindi imperativo garantire una seconda irrigazione entro la prima decada di agosto per evitare danni irreparabili alle colture ed enormi perdite di natura economica per migliaia di aziende agricole già in ginocchio. Purtroppo, aggiungono i sindaci del comprensorio riberese, nonostante le varie interlocuzioni avute con i rappresentanti del Dipartimento delle Acque, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica ed Enel e la richiesta formale di revisione dei volumi di acqua delle righe Castello, Raia di Prizzi e Gammauta, Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta ufficiale, ma soltanto una aleatoria disponibilità di massima che non si è ancora tradotta in provvedimenti concreti. Tutto ciò è inaccettabile, concludono, perché rischia di compromettere definitivamente la sostenibilità delle imprese agricole. Si sta mettendo a dura prova la pacienza dei nostri agricoltori e delle loro famiglie, aggiungono, con il paventato rischio di conseguenze anche di ordine pubblico e sociale, che bisogna assolutamente cercare di scongiurare. Un intervento concreto e immediato da parte delle autorità preposte affinché vengano tempestivamente assegnati e assicurati i volumi idrici necessari, circa 2 milioni di metri cubi di acqua, e quanto tornano a chiedere i sindaci del versante riberese perché solo così si potrà tentare di alleviare una crisi agricola, economica e sociale che rischia di diventare senza precedenti. Grazie Grazie Grazie